Presidente, è molto che non ci vediamo né ci sentiamo, mi dice come vede i palazzi un pochino più da fuori di prima? No, come è peggio di prima perché prima c'era un governo PD e PDL all'insegno dell'emergenza e le cose sono peggiorate. C'è un governo adesso PD e PDL all'insegno dell'emergenza e le cose stanno peggiorando ancora come prima. E questo perché? Perché dovendo trovare un compromesso tra il bianco e il nero, alla fine è soltanto grigio che i più furbi, i più forti, i più spregiudicati, magari gli evasori fiscali, magari gli approfittatori vanno avanti e la povera gente sta morendo di fame. Questa è la realtà, tutto il resto sono chiacchiere.